Ecco, la domanda anche al notista politico Fabio Dragoni, perché è un'ottima penna lui da questo punto di vista, è se esiste, insisto, un imbarazzo nel centrodestra per le diverse posizioni. Insomma, anche all'interno della stessa Lega, ad esempio, ci sono i vari borghi, per esempio, che ha una comunicazione pubblica anche molto più forte, cioè è molto più schierato dalla parte della libertà, cioè del rispetto della Costituzione. Cioè lui è uno di quelli che dice no, non si possono scavalcare i principi base, mentre invece abbiamo visto un po' di ondeggiamento dalle altre parti, e quindi questo non pensi che possa arrivare ad uno scontro finale? Addirittura non pensi che potrebbe il governo stesso, chi lo rappresenta, le loro controparti politiche, aizzare proprio il fuoco, attizzare il fuoco, mettendoli di fronte a una scelta che li potrebbe fare addirittura scindere? Allora, il punto è piuttosto delicato, perché a mio parere Salvini è rimasto intrappolato nel suo mondo. Cioè il suo mondo è fatto di uno Zaia, un Federiga, un Fontana, che vaccinerebbero qualsiasi essere vivente sul globo terraqueo. E quindi ha temuto che prendere una posizione, diciamo, di ferma resistenza sul Green Pass, potesse provocare una spaccatura interna al partito. Perché giustamente Fedriga, Zaia, Fontana sono governatori che sono stati eletti, con percentuali diverse, ma sono comunque persone che sono state elette in quanto tali. E questo è un dato di fatto. In più ha una compagine ministeriale fatta di persone che non appartengano propriamente all'area sovranista. Persone che io stimo tantissimo, Massimo Garavaglia stimo tantissimo, mi ritengo di essere suo amico. Non per questo mi sono risparmiato dal criticarlo. Soprattutto in privato, in questa situazione. Detto questo, Salvini ha temuto una spaccatura interna al partito. E non si è accorto, invece, che dicendo no al Green Pass, lui si spacca, ma dal suo elettorato. Cioè, dicendo sì al Green Pass? Beh, assolutamente sì. Ah, no, no, tu hai detto dicendo no. Eh, scusami, dicendo sì al Green Pass, dicendo sì al Green Pass, ho sbagliato, ho sbagliato, ho sbagliato. Sì, ecco, dicendo sì al Green Pass, di fatto, perché, ripeto, la Lega ha detto sì. Cioè, la Lega ha votato sì, neanche si è astenuta, ha votato sì. Quindi noi, alla prova dei fatti, non possiamo dire che la Lega è contraria al Green Pass, perché la Lega ha votato sì in seno al Consiglio dei Ministri. Lasciamo perdere che poi in sede parlamentare verranno presentati degli emendamenti che verranno regolarmente cestinati. Il punto dove dire no era quello. Perché dico così? Perché Draghi non si poteva permettere un voto a maggioranza. Non se lo poteva assolutamente permettere. E questo è la cosa più... Voleva una larghissima maggioranza. Oh, se la Lega avesse detto di no, non per questo sfiduciando il governo. Infatti molti dicono, ah, vabbè, doveva fare un secondo papete. No, signore. Doveva semplicemente votare no. Draghi avrebbe avuto un problema. E il giorno dopo, il giorno dopo la notizia sarebbe stata che c'era un problema dentro il governo. E c'era un problema per Draghi. Cosa che la Lega non ha avuto il coraggio di porre. Questo problema. Ed è... Scusami. No, no, no. No, 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 se non è completato continuo. Termino, termino velocissimamente. Termino velocissimamente. Concludi, concludi, concludi. Allora... Qui non siamo a Mediaset, puoi continuare e concludere. No, 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 vabbè. Per un certo punto, però... Vabbè, certo, è ovvio, Francesco, è chiaro. Poi arriva Francesco. Arriva Francesco. Qui ha ragione lui, però. Qui c'ha ragione lui. Qui batte cassa, giustamente. Quando c'è da fatturare, quando c'è da fatturare non c'è discussione. Quindi va bene, bene. Dai, vai avanti. Infatturato imperato. Veloce, velocissimo e chiudo. Anche perché non si prendono soldi pubblici qua, hai capito? Bravo. Allora, è nel DNA di una forza come la Lega combattere per la libertà, per quello che ho sempre pensato io. Io non sono un grande esperto di cose politiche, però voglio dire, da sempre la Lega si è battuta per certi tipi di libertà e per un certo tipo di elettorato. Ora, io mi domando che diavolo di razionale, perché ora va di moda a dire irrazionale, non motivazione, irrazionale, che diavolo di razionale ci sia nel mettere un lascia passare per sedersi intorno al ristorante e come questo possa far ripartire l'attività di questi negozi. Cioè, è una cosa che io non mi spiego, ma io tutti i giorni. E quindi la conclusione qual è? Che funzionerà nella misura in cui questa roba non viene applicata. È semplice, cioè è banale, lo comprendono tutti. Allora, però due cose, è però due cose. Una, che questo cosiddetto Green Pass, in realtà si chiama certificato Covid-19, eccetera, un vantaggio lo ha prodotto, ma ne parleremo dopo, casomai dopo dopo, ok? Però è vero quello che tu dici. Ecco, ultima domanda e poi Francesco giustamente ci deve prendere la linea. Sì, poi ci deve prendere la linea. No, ultima domanda. Ma tu hai detto, ma Salvini però, da una parte c'è Zaia, questo, Federico, quella. Ecco, ma faccio una domanda che non vuole essere per carità una critica, ma una considerazione. Ma un leader, un leader, un leader mette tutti a posto. Se no, cioè voglio dire, si chiama leader per questo motivo, cioè il leader detta la linea. La linea è questa, punto e basta. Se non ti sta bene esci. Se io sono convinto che una cosa è corretta, se no altrimenti così... L'Italia è un paese democratico, vuoi capirlo o no? No, democristiano, non democratico. Cioè, se no così l'elettorato è una volta di qua... Cioè, si scusa, ma io mi sono fidato di te. Che facciamo con i Cinque Stelle che sono andati a governare con una promessa e le hanno disattese tutte? E quindi il pubblico si sente un po' disorientato. Ma non è che per caso, caro Fabio, e ti richiedo la risposta in un minuto, poi semmai ne riparliamo dopo il break, non è che per caso c'è qualcuno, qualcuno che conosce bene l'ingegneria sociale, che sta lavorando proprio perché questo avvenga, perché il popolo non vada proprio più a votare, si rompa le palle e dice io non ci vado più, quei pochi che ci vanno determinano tutto quello che faranno gli altri. Non c'è un disegno da questo punto di vista e noi abbiamo bisogno invece di leader con le palle? Guarda Fabio, se ci riflettiamo bene, la storia del nostro paese, dal 2014 ad oggi è fatta di casi, di partiti che raggiungono percentuali di consenso astronomiche e irrimediabilmente dopo crollano. Guarda Renzi, il Partito Democratico, il Movimento Cinque Stelle alle politiche del 2018 e tutto lascia prevedere cosa possa succedere alla Lega. Ora nessuno ha la sfera di cristallo, vedremo. Però è un dato di fatto che le percentuali di consenso che la Lega aveva effettivamente ottenuto alle elezioni europee del 2019, in questo momento non sono confermate da nessun sondaggio. Nessuno. Poi, dopodiché, noi sappiamo, diciamolo ai nostri ascoltatori, i sondaggi si basano, fanno una fotografia su quelli che sanno già come votare. Quindi, sistematicamente, c'è un 40% di persone che al sondaggio dice io non so come voterò oppure dice io non voterò. Questo 40% di persone, quando si andrà a votare, si ridurrà al 20-25%. Quindi vuol dire che c'è una fetta di elettorato molto consistente, 10-15%, che decide nell'ultima settimana. Decide nell'ultima settimana e queste persone decidono come decidono. In genere sono quelli che decidono la vittoria o la sconfitta di un partito. Cioè, chi è indeciso fino alla fine non è indeciso, scusatemi il termine, se votare la Bonino o meno. È indeciso se votare quel partito che effettivamente vincerà. Ecco perché i sondaggi vengono sempre sistematicamente non confermati o confermati in parte da quello che è poi l'esito del voto.